Il panda si stava estinguendo per colpa dell'uomo e ancora a rischio e sicuramente non ha scelto lui di nutrirsi di bambù. Ecco, precisiamo. Ciao e benvenuto sul secondo canale, ci tengo a precisarlo perché magari tu sei finito qui per puro errore perché avevi visto, non lo so, sul canale principale il video sui panda, poi hai trovato questo video e ti starei chiedendo ma che cos'è tutto ciò? Che cos'è questo scarso editing, questa scarsa qualità così? Ecco, questo è il mio secondo canale, il canale che utilizzo come sfogo, dato che ci metto molto tempo a fare i video per il primo canale e soprattutto ho molta difficoltà a esprimere tutto ciò che vorrei esprimere e a fare tutto ciò che vorrei fare, ho utilizzato questo secondo canale, questa piattaforma, come sfogo quindi qui faccio delle cose un pochino più rapide e mi diverto. E sono ancora raffreddato. Oggi però vorrei sfruttare questo spazio per sanare delle lacune volontariamente lasciate aperte nel video per l'appunto sui panda e quindi raccontarvi un po' di cose che non erano state dette o troppo ben spiegate. Ma prima ho bisogno di fare una piccola premessa. Quando ho iniziato a fare la rubrica scienza brutta, una rubrica che adesso io non solo amo ma ritengo che debba diventare la rubrica principale del mio canale, ecco quando ho iniziato a fare la rubrica scienza brutta non c'era una rubrica e non c'era nemmeno alcuna idea dietro. Il primo video risale al, se non erro, all'estate 2016, era il video sui pennacchi animali e di certo non c'era alcun desiderio di far divulgazione o di raccontare la scienza come si deve era soltanto una scusa per potervi raccontare qualcosa di osceno e divertirci, ovviamente. Insomma, avevo preso delle immagini da internet che commentavo, c'erano, sì, delle informazioni più o meno però non era niente in dettaglio, niente di... D'altronde all'epoca avevo soltanto, penso, meno di 2000 iscritti al canale e soprattutto era ben risaputo che su internet non si potesse parlare di roba interessante non di roba perlomeno troppo acculturata perché il pubblico non era molto interessato e quindi ringrazio pubblicamente Dario Bressanini di aver dimostrato a tutti noi che questo era un preconcetto assolutamente sbagliato e che si poteva parlare di cose interessanti come anche la scienza, non annoiando assolutamente le persone ed anzi appassionandole. C'era già prima di lui ovviamente Adrian di Link for Universe che è un grande però ovviamente l'impatto che ha avuto Dario Bressanini per quanto riguarda me essendo anch'io un chimico, con quasi un dottorato in chimica a pochi mesi dal dottorato in chimica, ovviamente è stato un pochino diverso. Comunque possiamo dire che il primo vero video di Scienza Brutta è arrivato con il video dei Panda che penso che risalga all'inizio proprio del 2018 non sono andato a controllare, non ricordo nemmeno troppo bene comunque quello è stato il primo vero video di Scienza Brutta che ho pubblicato e deriva dal fatto appunto che noi in casa, tra ricercatori sfottevamo questa mia amica che amava follemente i Panda utilizzando proprio gli articoli scientifici e le prove che il Panda facesse schifo per rovinarglielo e quindi la teoria I Panda meritano l'estinzione e c'erano le prove scientifiche inconfutabili a darci ragione però ovviamente era uno scherzo, era una battuta comunque sicuramente l'idea che c'era dietro quel video non era tanto quella di sfruttare la scienza per raccontare la scienza quindi la divulgazione come fine ma c'era la divulgazione come mezzo per ottenere come fine la risata per fare un pezzo comico che fosse più o meno di stand up ecco il concetto è ovviamente cambiato subito dopo già dal video sulle zanzare ho ribaltato esattamente la mia visione del mondo quindi è diventato utilizzare la risata per divulgare quindi la divulgazione non è più diventata diciamo il mezzo ma principalmente il fine mi sono reso conto che effettivamente molti avevano imparato qualcosa da quel video sui Panda e mi sono detto ma forse non dovrei proprio limitare le cose in questa maniera forse dovrei proprio sfruttare il fatto che le persone vogliono farsi una sana risata per raccontarvi qualcosa che magari gli piacerebbe conoscere non lo so ho messo le mani in avanti così avete anche una visione del mondo di come io guardavo il mondo all'epoca di come tutto quanto, tutto ciò è nato quindi quando ho fatto i video sul Panda io stavo facendo uno spettacolo wow che impressione stavo facendo uno spettacolo più o meno di stand up se volete guardatelo in questa maniera avevo scritto un pezzo che si basava su un qualcosa che io reputo estremamente bello quando vuoi fare un pezzo di stand up ora non è che sia scritto nessuna parte è una teoria mia quella che sto per dire però io penso che i pezzi di stand up che funzionino partano tutti da un presupposto sbagliato cioè tu dici qualcosa di estremamente assurdo dopodiché utilizzi la realtà e delle congetture diciamo abbastanza in cui ti puoi ritrovare per dimostrarti che quel discorso assurdo potrebbe avere un senso però ovviamente è perché fa ridere no? è un po' come Louis C.K. che diceva uccidere le persone è sbagliato però talvolta il panda merita l'estensione infatti è dopodiché una caterba di informazioni scientifiche ovviamente alcune delle quali erano state diciamo presentate in una certa maniera proprio per far ridere capiamoci con il puntino ecco forse così è meglio la luce la luce è bella però da roppo rompi coglioni una delle battute che era palesemente una battuta era il panda ha scelto un'alimentazione a base di bambù ha scelto questa è ovviamente una battuta perché anche chi conosce le basi della teoria dell'evoluzione sa come funzionano più o meno le cose non è che noi abbiamo scelto di mangiare di provare gusto in quel che mangiamo non è che noi abbiamo scelto cosa ci piace e cosa non ci piace pensavo non fosse il caso di sottolinearlo anche perché insomma l'avevo un po' detto anche in descrizione però poi ho visto questo bellissimo video quanto tempo ci mette il pesce a capire che gli devono crescere le gambe che si deve evolvere si può salvare e mi sono detto ah vuoi vedere che qua qualcuno effettivamente non ha capito un cazzo quindi va bene siamo un po' persone serie e utilizziamo questo video per rovinare la battuta ecco sto per fare quello che non si non bisognerebbe mai fare cioè spiegare la battuta è una cosa proprio orribile io la deputo proprio antipatica però però d'altronde è proprio quel video il video sui panda io avevo fatto delle battute che erano palesemente delle battute un errore che non sto facendo più negli altri video negli altri video se vi dico una cosa è quella cioè se dico che cacchio ne so il ecco diciamo che sto sottolineando anche l'ovvio se dico ad esempio hanno trovato una specie di delfino che utilizza il pesce palla per trocarsi però è stato trovato soltanto quello non si sa se vale per tutti devo sottolineare però è stato trovato soltanto per quello eccetera eccetera devo sottolineare quale specie non posso fare la battuta del tipo il delfino si droga perché sarebbe falso almeno quanto sarebbe falso e ho dovuto sottolineare il fatto che effettivamente il comportamento dei delfini fa parte di un comportamento socio-sessuale non è che loro vanno in giro a stuprare anzi loro non lo fanno però vabbè entriamo nello specifico per quanto riguarda il panda anche perché direi che abbiamo fatto una introduzione estremamente lunga e la gente si è già caccata al cate il panda è ha iniziato ad essere considerato una specie in via di estinzione o meglio una specie a rischio estinzione a causa del della deforestazione dell'uovo gli cinesi simpatiche persone che erano in fase di espansione economica ovviamente stavano deforestando le foreste di bambù per poter costruire le care strade le care case e inoltre utilizzano il bambù per ovvie ragioni per costruire in realtà è molto ecologico però insomma sai com'è? ecco e c'è questo piccolo problema quindi che a causa dell'intervento dell'uomo nell'habitat naturale dei panda i panda hanno iniziato a rischiarsi brutta anche perché come vi ho raccontato nel video tutte informazioni verissime il panda è un coglio è un pirla ecco è un pirla cioè sostanzialmente la sua strada evolutiva lo ha portato ad essere sostanzialmente un emerito cazzone e non ha i mezzi diciamo per contrastare questa situazione quindi per potersela cavare in questa situazione d'altronde c'è da sottolineare che è un pirla cioè non lo so più dunque loro devono mangiare quasi un quarto del loro peso come ho detto cioè circa 40 chili di 45 a volte 50 chili di bambù al giorno il che non è veramente fastidioso per loro ma anche per noi che lo guardiamo perché devono passare 14 ore al giorno masticando e digerendo male quindi mollando questi bei pezzi di bambù non digerito e vabbè così è andata l'evoluzione che volete fare per loro fortuna il bambù cresce di un metro al giorno dipende ovviamente dalla specie però ha una crescita molto veloce quindi in generale loro possono passare la loro vita a mangiare 14 ore al giorno e per il resto della loro vita appunto dormire e cagare quindi direi che la vita perfetta è che se potessi rinascere panda comunque ci farei un pensierino non hanno il pulito sessuale ma loro non gli frega niente quindi ci sta il 90% della loro alimentazione quindi è basato sul germolì di bambù il che rappresenta un problema il resto è diciamo variabile meno del 10% su insetti o uova che trovano però insomma principalmente loro hanno bisogno di bambù si mangiano sto bambù mannaggia la miseria comunque bisogna anche far presente che loro hanno dei predatori non sono degli predatori che proprio cacciano normalmente il panda però insomma ad esempio ci sta il fottutissimo leopardo simpaticone e li insegue pure sugli alberi non lo fa in genere però se c'ha fame lo fa e generalmente insegue i piccoli e come avete visto i piccoli sono degli imbecilli peggio dei grandi e quindi potete immaginare che fanno una brutta fine molto spesso ho dimenticato di dire che però il bambù è un piccolo problema cioè il bambù cresce in maniera molto veloce però il problema è che quando fiorisce la pianta muore generalmente in una foresta di bambù ci sono tante specie quindi una ne fiorisce muore ma ci sana sicuramente un'altra quindi il panda in genere può andarlo a mangiare è successo però ed è stato un disastro nel 1975 che tutte le piante di bambù presente nella foresta hanno fiorito contemporaneamente e il panda se l'è vista male ed è stato decimato generalmente quando una cosa del genere succedeva il panda che faceva semplicemente cambiava si spostava emigrava anche il panda emigra vabbè si spostava e sostanzialmente non poteva più farlo perché intorno c'era l'uomo che aveva praticamente circoscritto tutta la zona e quindi il panda ha detto in modo cazzo vado addio eh vabbè a causa dell'opera dell'uomo ci sono delle foreste di bambù dove ad esempio le specie di bambù di disposizione sono ridotte e a volte ce ne sta soltanto una quindi quando quella fiorisce ciao panda ciao mo hanno fatto più attenzione cioè stanno prestando un pochino più attenzione per diverse ragioni sia perché la Cina ha capito che è un peccato per il panda sia perché la Cina ha capito che il panda paga sia in turismo che un bel po' di soldi avete presente che ci sono al mondo altri zoo che hanno a disposizione il panda ebbene sembra che sia stato stimato che uno zoo per avere in affitto un panda e quindi poterci fare delle ricerche ma anche semplicemente per poterlo mettere in esposizione perché è un grande privilegio per uno zoo deve pagare alla Cina è stato stimato qualcosa tipo 700.000 dollari al per 10 anni per 10 anni c'è per 10 anni diciamo di affitto il che è notevole di colpo voglio avere un panda non so perché forse loro dicono che i soldi che guadagnati in questo modo andranno a tutelare il panda eccetera eccetera io non ne sono sicuro però diciamo va bene dai carino ah la luce la luce la luce il male ma parliamo di una cosa che ho detto all'interno del video sui panda che non era chi è questa bussa che non era propriamente corretta ma serviva proprio per sviluppare quella battuta cioè il fatto che il panda abbia scelto di nutrirsi di bambù come ho detto non è che funzioni in questa maniera però resta il fatto che nonostante tutto è veramente una storia che veramente fa ridere che il panda la definizione tassonomica del panda lo vorrebbe un carnivoro alla composizione proprio è biologicamente un carnivoro è predisposto per la carne però questo qua si mangia il bambù eccome ecco il perché lo spiegavo già nel video studiando i geni del panda è emerso che circa 4,2 milioni di anni fa il gene T1R1 è mutato portandoli a perdere la capacità di percepire il sapore umami che poi è quello che rende la carne buona per gli onnivori e i carnivori ecco effettivamente il fossile di un primo panda gigante è stato trovato in Cina e risale al periodo del Pilo Cene circa un pochino meno di 3 milioni di anni fa però questo qua aveva già proprio tutte le caratteristiche del panda odierno era soltanto più piccolo quindi come dicevo nel video è stata studiata l'evoluzione genetica del panda e hanno trovato la perdita di questo gene il T1R1 che è legato al percepire il sapore umami e hanno iniziato a non apprezzare più il sapore della carne d'altronde loro non sanno di essere dei carnivori non sanno di cosa hanno bisogno loro sanno solo di cosa gli piace e se a questo gli piace il bambù si mangiano il bambù io ho letto tantissimi articoli sugli studi genetici del panda e ho spesso riso perché vabbè oltre ad essere molto dettagliati sono tutti cinesi mi piacerebbe mostrarvi questo articolo la quantità di autori tutto ciò tutti questi sono gli autori di questo articolo e stavo pensando a quanto deve essere brutto essere che cacchione so Bu Mo questo autore qua che è praticamente in mezzo a una lista di nomi dirà tipo io sono l'autore numero 25 di quell'articolo minca che culo in realtà è peggio per quelli che fanno ricerca al cern per spiegarvi bene che cosa è successo e quindi anche come funziona l'evoluzione ora mi inventerò una storiellina la storia è ovviamente sbagliata non è così che è andata è una semplificazione estrema della situazione ma vi aiuta sicuramente a capire come funziona l'evoluzione in generale come funziona anche la selezione genetica in questi casi immaginate che a un certo punto in Cina ci fossero 100 panda un numero proprio random giusto per per esempio immaginate che a un certo punto è nato questo panda e quindi questo panda non amava la carne la madre si avvicinava col pezzo di carne diceva mangia quello non mi piace mamma mangia non mi piace mamma ecco diciamo che questo panda era Gina così per par condition generalmente sono maschi facciamo Gina una femmina e quindi Gina era un po' tristina perché tutti gli altri panda mangiavano la carne e andavano alle feste portavano la carne e questa qua invece non portava la carne portava non lo so la verdura e tutti la guardavano male diceva ma che cacchio vuole questa qua con la verdura ma patina a un certo punto Gina casomai si è seduta nella foresta di bambù ha detto ma lo assaggio ha assaggiato il bambù e ha detto mi piace e quindi ha deciso di sedersi lì e mangiare il bambù tutto il santo giorno Cristo santo quindi mentre gli altri amici panda correvano nella foresta andavano a cercare le prede c'era competizione quindi c'erano pure loro che litigavano per la stessa preda e poi c'erano gli altri predatori che litigavano sempre per le loro stesse prede c'erano casomai periodi di male l'altro quanto e cioè questa stava sempre là sempre là seduta a mangiare sto bambù il bambù non lo voleva nessuno sto bambù ci sarà pure una ragione se non lo voleva nessuno però lei stava là e se lo mangiava nel frattempo tutti quanti sfrecciavano davanti a lei e insomma è andata avanti così su quel discorso questa cosa non ha causato grossi problemi per quanto riguarda il cercare un partner perché effettivamente quando è arrivata la stagione degli amori un bel panda virgunto si è avvicinato a lei e ha detto tu hai una bella personalità mi piace facciamo sesso magari all'epoca casomai erano un pochino più dentro questa faccenda rispetto a quelli attuali che insomma proprio non vogliono non vogliono e insomma questi due hanno fatto fichi fichi e sono nati mettiamo durante la loro vita 3-4 panda ciò che è successo casomai è che durante la storia questi panda hanno iniziato ad avere un vantaggio rispetto agli altri perché non essendoci competizione non essendoci un sacco di altri scazzi che gli altri avevano magari avevano semplicemente un tenore di vita migliore o semplicemente arrivavano a vivere più a lungo vivere più a lungo significa avere più possibilità di accoppiarsi e quindi iniziavano a spuntare sempre più panda che mangiavano sto cazzo di bambù mettiamo il caso poi che a un certo punto sia arrivato un bel problema ad esempio è arrivato nella zona un predatore oppure le specie le prede sono sparite o per qualsiasi ragione è successo un casino per cui i carnivori quelli che mangiavano la carne stavano nella merda non sapevano cosa mangiare stavano morendo di fame erano smilzi all'altro sesso facevano schifo quindi manco volevano accoppiarsi con loro e mentre quegli altri che mangiavano il bambù stavano sempre là seduti tutta la loro vita sotto sto armi a mangiare il bambù erano belli grassi i cicciotti erano sempre vivivano a lungo e quindi si accoppiavano ancora di più ma mettiamo il caso sia arrivato a un certo punto della loro storia che loro erano il 50% della popolazione c'era l'altro che era il 50% della popolazione cosa significa questo? significa che la generazione successiva quando si sarebbe dovuto accoppiare tra di loro avrebbe avuto una possibilità una probabilità molto alta di accoppiarsi con almeno uno dei partner che portava questa mutazione nel gene D1R1 e a quel punto la storia si scrive da sola è successo che a un certo punto grazie a proprio a questo vantaggio evolutivo loro sono riusciti ad diciamo imporre questa modifica questo errore oserei dire quello che reputeremo un errore nella specie e quindi adesso la specie vive in questa maniera e vive male secondo me non lo so in realtà è una gran bella vita però al momento non se la passano molto bene c'è da dire giusto per completezza che i panda ci somigliano sotto un punto di vista cioè effettivamente loro si accoppiano molto più felicemente e facilmente se hanno la possibilità loro di sceglierselo il partner se tu li butti due nella gabbia e gli dici scopate e poi gli dicono no chi la conosce no scopate anche dopo 10 anni cioè casomai non si piace scopate non si vogliono capire ora comunque il panda è passato da specie a rischio estinzione a specie vulnerabile questo scatto è dovuto al fatto che hanno valutato una presenza di circa 1900 panda in cattività che comunque non è altissima e quindi secondo me anche per ragioni politiche hanno scelto di farlo passare in specie vulnerabile non più a rischio da sottolineare il fatto che loro conoscono il numero di specie di esemplari in cattività semplicemente attraverso le analisi delle feci cioè non è che vanno nella foresta di mambù e contano allora ce n'è uno là uno là uno là c'è un casino allora cosa fanno in genere visto che questi cagano un sacco raccolgono le feci poi li analizzano e vedono quanti esemplari cioè quante feci di esemplari diversi abbiamo trovato e alla fine hanno valutato che sono più o meno 1900 anzi in realtà meno di 1900 che non sono tante per niente però vabbè è più o meno come se a un certo punto nella specie umana apparisse un individuo che ha una tendenza a mangiare carta igienica ce ne sono diversi in realtà e questo individuo potesse trasmettere questa sua tendenza fosse una tendenza dipendente dei geni ecco magari se ci fosse un vantaggio proprio evolutivo è possibile che tutti noi in un futuro tra 3 milioni di 4 milioni di anni non ci arriveremo mai a 3-4 milioni di anni quindi non vi preoccupate comunque però magari in un futuro tutti quanti potrebbero mangiare carta igienica no non penso non penso mi sono accorto di aver fatto tutto il video piegato in avanti in quella posizione magari mi avete odiato e vabbè e niente ragazzi questo video l'ho fatto giusto perché ci tenevo a mettere i puntini sulle i sicuramente è una cosa che come avrete notato negli episodi successivi non sto più facendo non sto più commettendo l'errore di fare una battuta tale da far passare un messaggio che magari non vorrebbe essere completamente corretto sto sottolineando se sto dicendo una cosa giusto per scherzare cosa che non è grandiosa dal punto di vista della battuta però sicuramente è più corretta ci tengo comunque a trasmettere un messaggio positivo ed aspettatevi su questo canale altri video dedicati alla scienza un po' raccontata in questa maniera un po' più tranquilla perché ecco non posso continuare ad editare sempre così tanto farò tanti video di scienza brutta però quelli richiedono un lavoro ovviamente maggiore questo qua ci ho messo non lo so forse quanto ci ho messo 30 minuti a parlare come un coglione quindi se volete capire è una cosa sicuramente più rilassante per me magari potrebbe interessare anche a voi senza considerare che devo fare sicuramente un video dedicato al bobbitt perché avevo detto che non era chiaro il metodo di accoppiamento della specie in realtà ho scoperto che si conosce al momento come si accoppiano quindi ho trovato anche il video inoltre sto facendo una cosa con il signor bobbitt quindi mi piacerebbe mostrarvelo comunque niente mi piace questa piega fatemi sapere se vi piace pure a voi se non vi piace fai niente che devo fare boh ciao